Benvenuti a tutti a questo nuovo video, oggi vediamo quali saranno le prossime uscite degli anime in Italia La prima è The Dare King, il film dei cervi, un film che Cochimedia ha proiettato a giugno al cinema Tra l'altro penso tra gli incassi più bassi della storia italiana degli anime Però vabbè è anche normale, i prezzi saranno un'edizione classica limited di Cochimedia Che loro chiamano limited ma in realtà è la standard, il Blu-ray costranno 25 e il DVD20 Come stiamo osservando ultimamente anche le standard di Cochimedia sono un po' aumentate ormai di prezzo Poi il 28 settembre uscirà il Blu-ray e lo stesso arco di Bleach Anche qui in edizione Fierce Pass è la stessa cosa Come gli altri, anche qui è aumentato di 5€ se non mi sbaglio Poi uscirà il cofanetto, c'è una ristampa del cofanetto di Death Parade Tra l'altro il prezzo in questo caso è molto interessante perché 30€ per un'edizione, cioè per una serie completa Da 12 episodi è raro questo prezzo al day one, di solito è più alto Quindi vi consiglio se non l'avete ancora presa assolutamente di recuperare questa serie Perché tra l'altro è bellissima Tra l'altro hanno anche mantenuto la stessa copertina dell'edizione limited Quindi niente male come cosa Poi uscirà il 21 settembre la quinta serie di Lupin Cofanetto che ha la copertina anche in questo caso non mi dispiace affatto Io di Lupin sia la quarta che la quinta stagione penso di prenderli entro la fine del 2022 Quindi probabilmente l'unboxing lo vedrete in ritardo Però lo vedrete penso Poi finalmente uscirà anche in un video Bell L'ultimo film di Mamoru Soda che Coach Media ha proiettato a marzo al cinema in Italia Penso, in questo caso la prenderò leggermente in ritardo E penso che per la prima volta forse opterò per l'ultra limited perché mi interessa la colonna sonora Però non è detto perché diciamo che quei 10 euro in più fanno un po' la differenza Non che il prezzo sia scandaloso perché anzi in questo caso c'è il Blu-ray 4K Quindi ci sta che dal punto di vista di valore di mercato ci sta che è più alto e quindi costa di più Anche perché penso che un Blu-ray 4K, cioè un film in 4K non basti e il disco in 50GB Quindi ci sarà necessario per forza il Blu-ray da 100GB Quindi a livello di stampa chiaramente costa di più Ma in questo caso non me ne intendo io quindi lascio a chi se ne intende di dare conferma o meno di questo Poi uscirà la Steelbook in 4K più Blu-ray classico Quindi io probabilmente o prendo questa o prendo questa Anche perché non c'è una terza scelta come potrete vedere Quella terza scelta è il DVD e non me ne frega un cazzo il DVD Vabbè Quindi come potete vedere non c'è una edizione Blu-ray liscia Ma penso che arriverà successivamente Poi proseguiamo per la prima volta in Italia Uscirà Naruto in Blu-ray Il prezzo in questo caso Volendo è anche davvero molto conveniente Perché rispetto ai 24 episodi classici O 26 massimo che arrivano A sto giro, cioè comunque ti danno 35 episodi E non è male come prezzo a sto giro E tra l'altro la copertina non è neanche così brutta Alla fine ci sta la copertina Poi sempre il 28 settembre uscirà anche Lu Questo invece lo faremo l'unboxing Sicuramente penso alla data di uscita Che chiaramente non dipende solo da me Perché mi deve comunque anche arrivare Poi uscirà anche il 7 settembre Invece uscirà Bersi Che in Blu-ray per la prima volta finalmente Che da veramente anni che lo attendevo E questo invece lo farò Lo unboxerò per il canale Ma lo prenderò a fine settembre Quindi mi arriverà dopo Poi le uscite di inizio di novembre La prima sarà La limited edition del film di Sword Art Land Progressive Tra l'altro molto bella Mi piace molto il rosso Quindi però questo film purtroppo Non sono riuscito a vederlo Perché Quando c'è alla fine Luci cinema della mia zona Non l'ha proprio proiettato E quindi Certamente non mi metto a prendere la scatola chiusa A una limited di un film Poi Sempre il 2 novembre E poi tra l'altro Le uscite di inizio usciranno tutti questo giorno Quindi non credo verranno rispettate Tutte quantomeno Forse guarda Saw E Questo qui e questo qui Ci potrei anche credere Perché potrebbero essere Uscite perfette per Luca Comics Però vabbè Comunque uscirà Hunter x Hunter I primi 26 episodi in Blu-ray Oltre che chiaramente in DVD Tra l'altro Probabilmente si tratterà Di una edizione simile Bleach Perché All'importante che esca Alla fine Alla fine L'importante che esce Però io personalmente Avrei preferito una Collector Che Vista così Non lo sembra Quanto meno Poi magari Si rivela una Collector Ed inizia a scrivere Prima pressa Anche sulle Collector Però Vista così Sembra più un'edizione Alla Bleach E io personalmente Non è che mi faccia Molto più impazzire La cosa Però Alla fine Io alla fine Quando prendo Un'edizione In un video La prendo per vederla Per poterla vedere Quante volte mi pare Cioè Quindi a me Alla fine Se è fatta in un modo O è fatta nell'altra Me ne frega Alla fine è il giusto Cioè Non sono uno Che per queste cose Non compra le cose Quanto meno Poi Uscirà sempre Anche qui In teoria Il 2 novembre La fortuna Di Nickuco In edizione Free Space Uscirà sia In DVD Che in Blu-ray Tra l'altro Hanno entrambi scritto Qui 2 Blu-ray Qui 2D Quindi ci sarà In entrambi i casi Un disco De extra Con appunto I contenuti extra Non male Come cosa Questa non credo Però la prenderò Cioè Sicuramente Non lo vedrete L'unboxing Nel 2022 Perché Il film Anche questo caso Non l'ho visto Perché anche sto giro Ucci Cinema Alessandria In culo Perché non l'ha proiettato Vabbè Che ci possiamo fare E poi Sempre il 2 novembre In teoria Uscirà Il cofanetto Completo Della prima parte Della terza serie Di Sword Art Online I primi 24 episodi Col prezzo Di Il prezzo di listino Di 50 euro Classico prezzo Di listino Per questo tipo di cose Quindi chi Non ha ancora Recuperato I due cofanetti Collector Può prendere questa Detto questo Iscrivetevi al canale Dite cosa ne pensate Di queste uscite Scrivetevi nei commenti Di cosa pensate Di comprare Cosa comprerete Cosa ne pensate In generale Di tutte queste serie Che verranno pubblicate Creiamo una discussione Nei commenti E ci vediamo Al prossimo video E ci vediamo E ci vediamo